Nel Giro del Trentino, nel Giro dei Trentini, come è iniziata l'avventura di Moreno Moser? Sono qui più che altro per lavorare, per ricercare la condizione dopo un periodo di stop. È dovuto a un dolore al ginocchio, quindi... Niente, insomma, tra le tre gola di oggi sicuramente sarebbe la tappa che mi piace di più, però forse è un po' troppo impegnativa per quella che è la mia condizione adesso. Ragionando in prospettiva, c'è una condizione atletica che tarda ad arrivare oppure è normale, considerati i problemi fisici che ha avuto questa primavera? Adesso sono 20 giorni che vado in bici, quindi è normale, non pretendevo di essere competitivo qui, insomma, non sarebbe normale. Quando rivedremo il Moreno Rock? Ma non lo so, insomma, spero al Giro. E poi i campionati italiani? Sì, credo di sì, insomma, poi quello dipenderà da come esco dal Giro. Sì, credo. Sì, credo.